Radio News 24, ONER Bentornati in ONER Queste sono sempre le frequenze di Radio News 24 e oggi siete in compagnia di Laura Voliamo, questa volta in Sicilia andiamo a parlare di trekking e andiamo a dare il benvenuto al nostro prossimo ospite Diamo appunto il benvenuto a Igor Fedele Ciao Igor Ciao Laura, buonasera a tutti Diciamo subito che tu sei direttore tecnico e titolare del Tour Operator Mediterraneo Trekking giusto? Correttissimo Voi operate praticamente in Sicilia e siete specializzati proprio in trekking Sì, noi siamo uno dei Tour Operator più storici, più antichi di Sicilia che iniziò 15 anni fa questa attività, io la cominciai 20 anni fa addirittura uno dei precursori a iniziare a organizzare viaggi a piedi esistevano già ovviamente le escursioni giornaliere su Etna che ovviamente è famosissima e noi invece abbiamo iniziato a strutturare questo turismo natura in più giorni con dei soggiorni settimanali di completamente di trekking in tutta la Sicilia adesso facciamo tutto il sud Italia da Napoli in giù Fantastico Senti, so che sei appena tornato da una escursione appunto in trekking dall'Etna e vorrei che tu raccontassi un po' a chi ci sta ascoltando o guardando che cosa si può provare facendo questo tipo di escursioni E allora, l'escursione di oggi nella fattispecie è in mountain bike elettrica perché abbiamo anche una nostra sezione da un paio d'anni che propone escursioni in mountain bike e anche lì soggiorni di più giorni le emozioni i luoghi più o meno non sono gli stessi che normalmente si calpestano andando a piedi quindi il percorso tra l'altro l'ultimo tratto l'abbiamo fatto assolutamente tutto a piedi emozioni fortissime camminare su un vulcano attivo tra l'altro il più alto è grande d'Europa è assolutamente una cosa infatti i signori che oggi ho avuto il piacere di accompagnare erano estasiati tra l'altro la giornata oggi era stupenda come è successo nell'ultimo mese quindi c'era una luce favolosa una visibilità fantastica si vedeva praticamente tutta la Sicilia quindi è assolutamente fantastico e tra l'altro ha un tiro di schioppo dall'aeroporto di Catania piuttosto che dalla città o da Taormina da altri luoghi della parte est della Sicilia però io ci terrei a sottolineare il fatto che in Sicilia non c'è solo l'Ettra che ovviamente è un richiamo per i turisti anche per un semplice giorno per passare qualche ora a piedi o in mountain bike o con altre attività che si possono effettuare appunto sull'Ettra ma in Sicilia abbiamo anche tantissime altre zone la Sicilia tanto per dare un'idea anche ai nostri ascoltatori 74 riserve naturali regionali un parco nazionale che è quello di Pantelleria e 4 parchi naturali che appunto sono il parco dell'Ettra e il parco dei Neboli che è la foresta più grande di tutta la Sicilia il parco delle Madonie che è assolutamente stupendo e il parco fluriare dell'Alcantara che è proprio accanto all'Ettra quindi a due passi anche da Taormina quindi unito anche a queste 74 riserve naturali capite bene che insomma la Sicilia dovrebbe essere probabilmente una delle prime destinuzioni d'Europa per quanto riguarda il turismo naturalistico che noi facciamo da come dire da precursori come dicevo poco anzi da 15 anni io da 20 anni Devo ammettere Igor che sono impressionata dal patrimonio che ha la Sicilia è conosciuta per tanti aspetti ma forse questo dovrebbe essere valorizzato ancora di più Sì assolutamente sì devo dire che noi ci proviamo con l'istituzione ovviamente interloquire ultimamente grazie anche a questo periodo del quale provo a vederne il bicchiere mezzo pieno perché ovviamente per noi è stata una catastrofe per tutto il settore abbiamo utilizzato il periodo appunto del lockdown con alcuni colleghi di Turo Peretoro di tutta Italia è un sogno che avevamo da anni ci siamo riuniti insieme abbiamo creato una rete di Turo Peretoro che si occupa solo di turismo naturalistico che si chiama Active Italy e con questa contiamo di avere un peso maggiore all'interno delle istituzioni di tutte le regioni anzi a livello nazionale appunto per pressare il ministero del turismo e tutti gli organi competenti e far capire che l'Italia oltre a essere una destinazione stranota al mondo intero per le sue bellezze architettoniche culinarie artistiche ma anche a livello naturalistico e mentre di alcune lo si sa già Trentino e tante altre realtà che sulla natura insomma ci insegnano la Sicilia invece potrebbe assolutamente essere quello che già in parte sviluppando percorsi mappati e tutto il contesto dei servizi che purtroppo pagano lo scotto di una logistica un po' complicata di infrastrutture e quant'altro non stiamo qui a lamentarci è assolutamente un patrimonio che potrebbe dare molto di più molto di più di quello io dico sempre che siamo ancora a pagina 1 e faccio questo mestiere da vent'anni quindi immaginiamo cosa ancora si può sviluppare Igor come facciamo a metterci in contatto con te con voi è semplicissimo basta guardare il nostro sito che è www.mediterraneatrekking.com raggiungerci sulla nostra pagina facebook che è Mediterranea Trekking o su quella Instagram Mediterranea Trekking dove giornalmente io ancora oggi ho avuto il tempo di pubblicare appunto le foto di oggi quindi ci si può seguire mettere il like ovviamente contattare l'ufficio ovviamente via mail via telefono abbiamo dei pacchetti con abbiamo appena rifatto il sito siamo anche working progress c'è l'opportunità di fare la promotazione online pagare con paypal insomma ma siamo qui disponibilissimi anche a fare dei pacchetti che non sono solo quelli che esistono sul sito ma anche dei pacchetti ad hoc come abbiamo fatto in questo post covid visto che ci siamo dovuti un po' reinventare ci è mancato sostanzialmente quasi tutto il nostro business che viene dall'estero perché ricordiamoci che l'Italia si sta avvicinando adesso a questo tipo di turismo che invece sta crescendo tantissimo è vero noi già abbiamo grazie a francesi inglesi americani e quant'altro noi diciamo quindi ai nostri ascoltatori ma anche a chi sta guardando il video di questa intervista sulle pagine social di contattare appunto Igor Fedele e Mediterranea Trekking per saperne di più ragazzi andate quindi lasciate un sacco di like e soprattutto condividete il video di questa intervista io voglio ringraziare Igor Fedele di essere stato con noi in questa occasione grazie mille Laura a voi tutti grazie a te a presto Igor grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato buonasera da tutti grazie le vostre interviste su On Air io sono Laura e voi siete su Radio News 24